La regola numero uno è fregartene del giudizio degli altri, anche se sono persone a te vicine, anzi soprattutto se sono persone a te vicine, perché ovviamente del giudizio del figlio del portiere, del quale non ti importa niente, ovviamente naturalmente riuscirai, però se ti giudicano persone vicine e tu temi sto giudizio e cambi il tuo modo di essere, cambi il tuo modo di fare, non riuscirai mai ad essere felice, sarai semplicemente un infelice perché vivrai la vita che gli altri vorranno in porti e quindi tu non riuscirai mai a raggiungere la tua serenità, la tua tranquillità, vivrai la vita di qualcun altro e la vita è breve, per cui bisogna non perdere mai di vista, quello che noi davvero vogliamo, fregartene del giudizio degli altri, è la regola numero uno per essere felice, metti un like e con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari, ciao a tutti!